Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 6 marzo. I giornali di oggi, parliamoci chiaro, sono dei giornali fatti con un certo imbarazzo. Sono fatti con un certo imbarazzo perché il trucchetto giornalistico per il quale sono fatti oggi i giornali è che non hanno una buona notizia, non sanno quello che succederà, ma devono comunque essere pubblicati. Quindi cos'è il problema dei giornali? Che ieri in Sicilia non sono state aperte le urne e gli unici dati che avevano erano quelli degli exit poll, cosa peraltro che è avvenuta anche a Matrix ieri sera, che peraltro è andata benissimo e vi ringrazio per averci ascoltato così tanti. La sintesi è che i giornali che cosa hanno fatto dopo tutta questa grande premessa? L'unica cosa che hanno potuto dire i giornali con un certo godimento, perché i giornali italiani sono fatti così, cioè come gli italiani, è sparare a palle incatenate contro Renzi. Renzi è il grande sconfitto delle elezioni siciliane, cosa che peraltro già si immaginava, tant'è che Renzi ha partecipato proprio a queste elezioni siciliane. Renzi oggi è come Berlusconi nel 2000, cioè è il nemico numero uno di tutti gli italiani. Siccome Renzi, io un pochino l'ho incrociato nella mia vita e so che è un cattivo, come si suol dire, è un uomo che non fa prigionieri, non ho, voglio dire, molta accondiscendenza nei confronti dei suoi attuali dolori, però non si può non rivelare, rilevare come i giornali italiani, da renziani quali erano, sono diventati ormai il grandissimo nemico del paese, l'inizio di tutti quanti i problemi, oggi i giornali godono del fatto che Renzi e il PD abbiano perso. Io vi ricordo a voi che non amate Renzi come non lo amo io, che cosa sarebbe il PD di Bersani, il PD di D'Alema, il PD di Grasso, perché rientrerebbe Grasso, vi piace quel PD? Siete contenti del futuro PD fatto con questi uomini? Il PD della CGL, il PD, ecco, io mi limito a dire semplicemente questo a quella parte, diciamo, di destra a cui io strizzo l'occhio, destra liberale, quella che comprende la zuppa di porro, che cosa immaginate che sia quel PD? Oggi tutti godono e ovviamente se questo è il clima, come si chiama, Di Maio, che sono i veri vincitori da un punto di vista elettorale della Sicilia, adesso secondo le prime proiezioni avrebbero perso la presidenza della Sicilia, ma sono largamente il primo partito siciliano, il primo partito siciliano è il Movimento 5 Stelle, Di Maio fa lo sfregio nei confronti del perdente Renzi, quasi come se l'avesse pensato a tavolino, sembra un'operazione pensata da Renzi, ma fatta dal Movimento 5 Stelle, devo dire che sono geniali, e cioè che cosa ha detto Di Maio? Di Maio ha detto andiamo a fare il dibattito televisivo, e Renzi ha detto di sì, andiamo alla 7, e Renzi ha detto di sì, e oggi Di Maio stamattina sul suo profilo Twitter ha detto, Renzi non sei più il leader del centro-sinistra e quindi io il dibattito con te non lo faccio, io la trovo una cosa che è tremenda, tremenda, ma è uno di quei segnali deboli, come direbbe il mio amico Riccardo Ruggeri, uno di quei segnali deboli che fanno capire che è finito un mondo, non so se sei innalzato il mondo del Movimento 5 Stelle, ma so che uno sfregio di questo tipo a Renzi e una trappola tesa a Renzi in questa maniera è la notizia del giorno, non ci sono altre notizie, il trappolone teso dal Movimento 5 Stelle in concomitanza con le elezioni siciliane e Renzi, il suo entourage, i suoi consiglieri, si sono caduti con tutte le scarpe. Vi immaginate Berlusconi in una trappola di questo tipo? Berlusconi quando era al minimo della sua popolarità andò da Santoro, spolverò la sedia e guadagnò un successo elettorale. Ecco, questo colpo di Reni oggi sui giornali non lo vediamo da parte di Renzi e sembra che non ci sia. Per quanto riguarda altre considerazioni sulle elezioni, vi dico che oggi i giornali erano di tutti i tipi, forse la più interessante è quella di Sallusti che dice che la terza sconfitta di Renzi dopo il referendum e le amministrative adesso arriva a quella della Sicilia, quindi insomma tre iniziano a essere una bella prova e un'altra considerazione secondo me interessante sempre del giornale di Sallusti è che in politica non ci sono i secondi, chi vince prende tutto, il secondo come vuole dimostrare Sallusti in Sicilia può aver fatto anche un ottimo risultato, ma in Sicilia hanno vinto il centrodestra, dice se ha vinto il centrodestra e tutto il resto non conta. I risultati dicono che sono lì appaiati, anche se sembra per il momento che Musumeci abbia due punti, secondo le proiezioni, di vantaggio rispetto al Movimento 5 Stelle e due punti sono tanti per essere recuperati. Guardate, ci sono altre due notizie riguardo ai giornali di oggi che sono straordinarie, la prima è che il regime va a vita, il regime dell'Arabia Saudita resta ai miliardari, insomma è una mossa per strizzare un po' l'occhio a Trump, ma anche per fare, resta poi si fa per dire perché li metti in alberghi di 5 Stelle, e la seconda cosa sono i nuovi papers, si dicono sempre in inglese, le nuove carte segrete, secondo le quali dalla regina Elisabetta a Bono, Bono, quello che ci faceva due palle così su tutte le operazioni ecologiche, di bontà del mondo, insomma avrebbero messo i soldi nei paradisi fiscali. Ma diciamo, c'è ragione a Andrew, non è reato avere conti all'estero, basta denunciarli e non credo che la regina Elisabetta, non so come continui, io sono abbastanza dell'idea di Andrew Earp, o non so come si pronuncia esattamente, ma c'è appena scritto ora, quindi insomma, anch'io trovo che questa cosa sia abbastanza una di quelle cose che piacciono ai giornalisti, i Paradise Papers, come dice François, ma certo che mi diverte che tutti i retori contro la finanza, contro i paradisi fiscali, tutta quella finanza, tutti questi retori contro questa roba qua, insomma poi vengono beccati a utilizzare le cose contro le quali utilizzano la loro retorica. Confrontare di Mario con nulla, non c'è più motivo per il confronto, scrive qualcuno di voi, dice confrontare con il nulla, perché oggi è nulla di Renzi e fino a ieri Renzi prima della Sicilia era qualcosa, se è nulla oggi probabilmente lo era anche ieri e se fino a ieri andava bene, oggi non va più bene e non lo sapevamo il 25 Stelle che avrebbe avuto questo risultato, lo pensevano, the win takes it all, Alessandro hai ragione, questo direi che per oggi è tutto, vi ricordo questa sera dalle 19 alle 20 faremo un approfondimento ovviamente anche sulla politica a Matrix 105 e vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e ovviamente a domani sera con Matrix, ciao!